oh rieccoci siamo a ponte d'era guardate guardate giù il ponte d'era scolvatore la mia macchina qualcuno se me la lava e fa un piacere e la mia figlia l'ha detto ci vuolta più niente e voglio farvi vedere quello che c'è qui che vane ampi perché poi si dice ma sarà giù butta la spazzatura perché non hai visto dove non ci devi all'occhio tutta sta roba ora vi faccio vedere anche meglio perché qui vedi bicchieri la gente viene si fa la bevuta con calma cosa vuoi andare a vedere cosa vuoi andare a vedere se no che qua giù abbiamo anche alcuni guarda che è un manubrio qui c'è un manubrio mi pare cavolo a fare il zesser magari che vipera ora si becca un morso una seggela se la seggela basta di tutto opertone riopertone copertone grosso per ricoprire capito e quando non ha freddo chiapa l'operta no copertone perché è troppo freddo per risparmiare un po sul carburio risparmiare il caldamento però qui a forza di opertone e sanno scordati lasciarci la macchina perché le note c'erano tutte e il camion c'è più c'è cosa hanno un binato ma oh ragazzi guarda la giù c'è altre roba materiali edili edili chiamano come ti pare la giù c'è altre osse vi c'è la fossa ma forza perricono andiamo a vedere un attimino perché ora vi faccio vedere guarda il lavoro c'era anche per di qui non ci devi venire a lasciare niente torna a casa tua e ma ci hanno sentito ha buttato ciò anche guarda la guarda ma guardalo ok ok quell'affare sembra un ferro da stiro ok è un ferro da stiro è un ferro da stiro no sembra una macchinetta una pialla perché non è che la pialla l'hanno piallata lì proprio sento c'è legno c'era mettiamo che altre volte qualcuno voglia lavorare e hanno messo la pialla e il televisore ferma mi mancava il televisore l'ho trovato è un televisore sì sì l'ho trovato guarda c'è anche il tubo catodico abbigliamento manca il cadavere o c'è anche sai un po vecchio la roba è il cadavere vediamo un po se c'è rimasto in piedi al voto il cadavere vediamo c'è più niente se lo saranno mangiato forse non c'era per niente allora aranciata ancora dio boh nemmeno bevuta l'hanno buttata via dio boh ragazzi scialoni e spreconi si era detto la pialla e ora c'è il bello perché ragazzi e laggiù avete visto c'è lo scolmatore e qui c'è la discaria per colmare diciamo eventuali problematiche insomma che uno magari dice ma io dove la metto tutta sta roba sta a guardare me tirai me tirai che differenza fa differenziata butta tutto sigarette ci ha fatto la fumata ma sarebbe non sarebbe parliamone e tanto si fumano la cicca e vota tutto il divano il divano il divano la umidità è quella ci uccide c'è niente da fare divano divanetti e seggio line o che c'è raggiù c'è l'altro televisore qui c'è un filtro di un filtro dell'aria sempre incartato no ma cartate sempre buono il filtro dell'aria lavagne osse tavoli e diluenti e diluenti c'è ne abbondano siliconi il silicone ragazzi silicone per farti il tuo bagno capito eh sì lì co ne vabbè oh ecco qua manca soltanto l'ombrellone ci possiamo godere tutta settimanata la settimana bianca ci possiamo fare c'è sacchetti a tutte le plastiche ma qui volete mettere la tazze plastiche con la pilastri stac se e che ne frega se volete mette perché è meglio si e meno se lo teniamo in casa a cavoli ci tasso non teniamo sia la lavamo la puliamo sa quelle costa città e invece niente alla rinfusa alberi casca è tutto un vecchio e tutta alla rinfusa io e non lo voglio sapere quindi ora capo e me ne vado la discarica l'abbiamo vista poziosi nostri affarini è tutto un lavoro un po diciamo sotterfugio o o mi mancava il profilatio c'è profilatio si c'è profilatio come qui c'è rossi e gialli o rossi e gialli ha mai visto sa che io sono sposato faccio la sua morte perché se giallo non ha saputo sapevo ha detto alla frago non so troppo non so mancipato si vede che mi sono rimasto un po indietro volete insegnare io su qui niente da giorni fine l'altra plastica è tutto laggiù c'è la zona industriale arcinaia ponte nera dove c'è anche nel famoso ristorante pizzeria il vesuvio e che si mangia pizzo buona c'è pubblicità dove c'è un film e c'è la pubblicità o niente di conseguenza